Sindaco Cristiano Zagaribaldi Allora finalmente c'è un'accelerata per il ciclabile Sì, ma in realtà sembra che ci sia un'accelerata Ma noi siamo accelerati da sempre Ecco, io voglio ricordare che quando a volte mi si accusa Anche velatamente magari che siamo in ritardo In realtà non siamo mai stati in ritardo Perché attualmente laddove sorgerà la ciclovia tirenica Stanno posando i tubi dell'acquedotto del Roia Io credo che insomma non sia possibile far passare un'accelerata Prima di queste importanti infrastrutture Che insomma sono agognate da tanto tempo sul nostro territorio Detto ciò, la posa dei tubi del Roia su Diano Marina Terminerà con i primi sei mesi del prossimo anno Ma contestualmente noi già stiamo lavorando Per tutta una serie di opere propedeutiche Al passaggio poi della ciclovia tirenica Bisogna puntualizzare che nel 2024 interverranno Tutta una serie di appalti e di cantieri Che sono stati appaltati appunto anche dal comune di Diano Marina Quindi che sono propedeutici al passaggio della ciclovia tirenica Intendo messe in sicurezza Come quella che stiamo facendo adesso sull'incompiuta O opere attigue, piazze, opere di rigenerazione urbana Ho detto qualche tempo fa Che nel Consiglio Comunale straordinario sulla ciclovia tirenica Che questo passaggio di questa grande infrastruttura nazionale Ci permette di fare la più grande opera di rigenerazione urbana Degli ultimi 50 anni Ed è proprio così Perché grazie a questo passaggio Noi potremmo una volta si diceva riqualificare Adesso si dice rigenerare tutti i quartieri di Diano Marina Della nostra zona Anche quelli più periferici La cittata lei è l'incompiuta? L'incompiuta a fine anno sarà messa in sicurezza Per quello che riguarda il versante Abbiamo già posato quasi tutte le parti di reti Che dovranno tenere la montagna E immediatamente dopo a gennaio Partirà il cantiere della regione Che servirà a consolidare il muraglione Che appunto tiene la strada Auspichiamo di poter riuscire a tenere aperta A questo punto l'incompiuta Definitivamente già subito dopo le opere della regione Ma contestualmente cercheremo di tenere l'aperta Perché non la chiameremo più così? Esatto Grazie Zagarin Grazie a lei 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 Grazie a lei